Si chiude il 2021 e si può fare il punto sul calcio provinciale. Partendo dall'alto e dalle sue più nobili rappresentanti, il girone di eccellenza vede ancora molti buchi e partite da recuperare, da aggiungersi ai turni di riposo. Partita in più, partita in meno, la biellese è dove dovrebbe essere, a lottare per la vetta. La partenza del campionato sembrava far presagire un dominio incontrastato per i lanieri, che con il 5-1, verrebbe da dire sofferto all'esordio sul campo del quotatissimo Stresa, avevano subito lanciato un messaggio. Invece, una piccola flessione tra ottobre e novembre e il ghiaccio, quello sul campo di Trino, che ha portato a ricorsi e rinvii, e quello che ha fatto scivolare Latta sul dischetto domenica contro l'Oleggio, fa sì che i ragazzi di Mister Rizzo debbano chiudere l'anno secondi dietro allo stesso Stresa, in testa più due su Agnesina e compagni, ma con una partita in più. Il campionato è lungo, il più 30 di differenza reti contro il più 18 dei Borromaici rende l'idea delle potenzialità biellesi, soprattutto là davanti, dove Panatti comanda la classifica dei Bomber con 13 centri stagionali. È stata una prima parte di stagione soddisfacente anche per la Fulgor Valdengo. I Rosso Blu mantengono la testa fuori dalla zona play-out e hanno un margine rassicurante sulla retrocessione diretta. Ci sarà da lottare fino alla fine, ma la creatura di Mister Peritore ha la tempra adatta per giocarsela. In promozione comanda il Cossato. Mister Forzatti ha tra le mani una squadra che starebbe bene anche in eccellenza, fatta di elementi già visti al piano di sopra. Il primo posto non è casuale, ma il Briga, che anni addietro costò al Cossato una coccente retrocessione, rimane in scia a un solo punto. Si è ripreso bene anche il Vigliano, che galleggia a metà classifica, ma sembra in netta ripresa dopo un avvio complicato e dopo il cambio in panchina. Dovrà stringere i denti nel ritorno invece la Chiavazzese, coinvolta nel gruppo delle ultime e a un solo punto dal fondo della classifica, sebbene con una partita da recuperare. In prima categoria, Valle Cervondorno e Ceversama sono rispettivamente al secondo e terzo posto, a pochi punti della capolista Pontestura. Anche Ponderano e Piogliese Valdilana si mantengono nella parte alta della classifica e possono godersi le feste senza preoccupazioni, sperando ovviamente per tutti in un 2022 ancora più soddisfacente.